Guido Guidesi, come commenta le proposte avanzate da Matteo Renzi al termine del Consiglio dei Ministri? Ma non sono proposte e lui non è un Presidente del Consiglio, lui è un ottimo direttore di una catena di supermercati che sta insediando un supermercato nuovo e che deve vendere i suoi prodotti. Ha fatto una conferenza stampa che sembrava una televendita, una conferenza stampa fasulla, ha preso in giro tutti i cittadini perché presenterà dei disegni di legge su tutte le misure che ha proposto dimostrando che non ha la copertura economica per fare quello che sta dicendo. L'unica copertura economica la trova in un aggravio, in un aumento delle tasse come è solito fare il Partito Democratico. Niente di nuovo se non il gran cinema che sta combinando. Tra le promesse di Renzi c'è quella di dare 1000 euro netti in più all'anno in busta paga a chi ha meno di 1500 euro in busta paga. Lei crede che questo non sarà possibile? Ma se siamo onesti innanzitutto dobbiamo dire che deve ringraziare un pezzo di questi 1000 euro che nel caso in cui arriveranno in busta paga in più ai lavoratori, ai lavoratori che prendono fino a 1500 euro, questo va chiarito, sarà grazie all'opera del suo predecessore per cui di Enrico Letta e questo gliene va dato atto. Ma lui lo farà facendo semplicemente quello che sempre si è fatto e quello che già faceva Letta precedentemente. Metterà nuove tasse per cui aumenterà le rendite finanziarie, metterà una patrimoniale perché di patrimoniale trattasi e utilizzerà i soldi delle patrimoniali per cui l'imposizione fiscale in questo Paese grazie al direttore del supermercato Renzi aumenterà ancora.